ma secondo te il parrucchino va a napoli secondo te non va e il gopo qui ha fatto così c'era non ci va no niente secondo me sì secondo me sì solamente ha dichiarato già che 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 vuole stare da roma a salire da roma a salire da roma a salire lui lui a lui a napoli non ci va lui a napoli ci va anche perché ha una collezione bella di rolex capito quindi sto scherzando stiamo scherzando io che stiamo scherzando figa dai stiamo scherzando no ha dichiarato già che lui sta bene ancora vorrebbe stare con la famiglia e poi vorrei dire un'altra cosa ma l'hai vista la classifica dei marcatori dell'anno solare non c'è leao non c'è leao e ma non c'è neanche vlaovic però dove vlaovic non c'è leao dove leao e giru ma c'è martinez insieme a cosa c'è lautaro c'è ma leao non c'è e neanche giru mi cazzo è abbiamo aggiatto bene abbiamo aggiatto bene ciao ster